Io credo nel mio prossimo, nei miei simili. È per questo che proviamo a incontrarci e ci sforziamo di capire le nostre vite. Quella sala è un luogo sicuro dove possiamo pensare, discutere, apprendere, ascoltare e ridere e ballare. Tira fuori il meglio di noi. Venga a vedere con i suoi occhi quello che facciamo. Non abbia paura. C'è qualcosa di malvagio che cova dentro quella sala. Gralto nella sua cricca. Sono degli atei. La nostra comunità è di fronte ad una scelta. È con Cristo o è con Gralto? Ci ha definiti l'anticristo. La Chiesa è nervosa. Dobbiamo insistere. Questo è sicuro. È un disastro per la comunità. Sarebbe una tragedia trasformarlo in un martire. Fatevi da parte. Chi oltrepassa il cancello si prende una pallottola in testa. Da una battaglia all'altra mi sento in trappola, Jimmy. Voglio Gralto! Tutti fermi! È in arresto! Perché? Non potete prendere il mio figlio! La prego, signor Gralto! Una parte di me vuole urlare. State giù! Tutti giù! Giù! E una parte di me vuole chiedere quale crimine abbiamo commesso. Perché un capannone di lamiera è tanto pericoloso. Non sono solo quattro mura. È quello che siamo. Jimmy! Jimmy! Siamo con te! E dobbiamo proteggerla. Abbiamo portato il sindaco lettere di sostegno da tutto il paese. Dobbiamo tornare a essere i padroni delle nostre vite. Per vivere davvero. Festeggiare. E danzare. Da uomini e donne liberi. Ciao, bentornati. Oggi vi annuncio che Paul Greengrass, autore di Captain Phillips, United 93 e The Bourne Ultimatum, ha annunciato il suo nuovo progetto. Dirigerà la trasposizione del libro The Tunnels su un gruppo di persone che tenterà di far fuggire i propri cari dal lato sovietico di Berlino, quando la città era divisa dal famigerato muro. Ancora nessuna news su quando partiranno le riprese, anche perché diverse voci di corridoio dicono che Greengrass sarà prima occupato a girare una nuova installazione della saga di Bourne. Ovviamente appena avremo notizie vi terremo aggiornati. E noi ci vediamo al prossimo video. A presto. Ciao a tutti.